Anche noi che facciamo parte della comunità ecclesiale, della Chiesa, rischiamo di sentirci i preferiti, di sentirci coloro che sono stati scelti, chiamati e quindi separati, no? I migliori. Invece no, noi siamo chiamati a essere coloro che si sentono sempre pescati, chiamati, sono stati inclusi in questa rete ma l'umiltà, il sentirci peccatori, il sentirci sempre fragili, possibili alla fragilità, all'essere peccatori questo ci abilita a essere umili e con questa umiltà siamo poi chiamati a essere pescatori credo che non debba mai mancare davvero questa chiave di volta